Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un incidente tra auto e moto avvenuto nel pomeriggio di domenica attorno alle 14.30 in via Marconi, nel centro di Trinitapoli. La vittima, Nicola Signoriello, originario del posto, viaggiava infatti a bordo della sua Suzuki quando per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si è scontrato con una Ford Focus. A nulla è servito l'immediato intervento del 118 proveniente sia da Zapponeta che da Trinitapoli, allertato da una pattuglia dell'Istituto di Vigilanza Ariete in servizio nella zona. Il conducente dell'auto ha rimediato lievi ferite ma è stato comunque portato in caserma dai carabinieri dove è stato poi sottoposto a tutti quanti gli esami di rito.